Benvenuti a una nuova edizione di Onboard IG della Wilka nazionale. In apertura la situazione di tensione che si registra nel settore assicurativo dopo l'interruzione del confronto per il rinnovo del contratto nazionale. Vediamo il servizio. Con il presidio tenuto di mercoledì 30 novembre in piazza Cordusio a Milano è iniziata una nuova fase di mobilitazione nel settore assicurativo dopo l'interruzione delle trattative Collania per rinnovare il contratto nazionale di lavoro, scaduto da quasi due anni. Le iniziative avviate dall'organizzazione sindacale prevedono altri presidi, oltre a quello di Milano, nelle piazze importanti per le assicurazioni, Trieste, Roma, Torino, Napoli e Bologna, assemblee in tutte le aziende e l'interruzione dell'attività degli enti bilaterali paritetici del settore. L'azione di protesta è anche finalizzata a informare e sensibilizzare i cittadini e l'associazione dei consumatori rispetto a un atteggiamento delle compagnie assicurative che il sindacato ritiene e si è indirizzato solo a contenere sempre più il costo del lavoro, mentre mantiene a livelli esorbitanti le remunerazioni del top management, continua a distribuire dividendi agli azionisti e offre prestazioni spesso deficitarie. Le organizzazioni sindacali considerano la posizione dell'ANIA ideologica e finalizzata a scardinare l'impianto del contratto nazionale, pertanto hanno già previsto per gennaio, se la situazione non si sarà sbloccata, una grande manifestazione nazionale con sciopro delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria. Il segretario nazionale della Wilka Renato Pellegrini ha espresso soddisfazione per l'esito delle iniziative già realizzate e per la larga partecipazione dei lavoratori alle assemblee. In una situazione di grande incertezza a livello economico e di ristrutturazione del settore, ha aggiunto Pellegrini, auspicchiamo che l'ANIA riveda la sua posizione per consentire di raggiungere un accordo che dia riconoscimenti concreti in termini economici con il recupero dell'inflazione e garanzie normative alle lavoratrici e ai lavoratori. Ed anche i lavoratori del credito sono in attesa del rinnovo del contratto nazionale da quasi un anno. Il previsto incontro tra organizzazioni sindacali e ABI del 5 dicembre è stato posticipato a giovedì 15. In una nota il segretario generale della Wilka, Massimo Masi, ha dichiarato che in tale occasione l'ABI deve dare risposte chiare ed esaustive alla richiesta di aprire in modo concreto il confronto per chiuderlo entro la fine dell'anno. La piattaforma rivendicativa unitaria approvata dai lavoratori e il nostro faro, ha aggiunto Masi, e rappresenta la base da cui aspicchiamo si apre una trattativa serrata, aperta e costruttiva. In tal caso andrà tutto bene, in caso contrario invece vi sarà una rottura delle trattative e delle relazioni sindacali sia a livello nazionale che di gruppi bancari. Cambiamo argomento. Anna Ferrari e Daniele Ginese, esponenti dei gruppi di espressione sostenuti dalla Wilka, sono i nuovi vicepresidenti dell'Associazione Dipendenti Amici della Banca Popolare di Milano. La loro nomina è giunta al termine del voto per il rinnovo degli organismi direttivi dell'Associazione che ha visto l'elezione di 34 delegati, tra i quali sono stati individuati i 13 esponenti del direttivo, al cui interno sono 9 gli esponenti dei gruppi di espressione sostenuti dalla Wilka. Con la sua nomina, Anna Ferrari diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di vicepresidente dell'Associazione. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Anna Ferrari, prima donna nominata vicepresidente dell'Associazione Amici della Banca Popolare di Milano nelle recenti elezioni, qual è il giudizio sull'esito del voto? Complessivamente lo ritengo positivo perché nonostante i pressanti inviti di qualcuno a non votare, oltre 4.000 colleghi hanno deciso di votare per l'Associazione. È stato sottolineato all'interno di 4.000 voti la presenza di parecchie schede bianche. Io non lo vedrei negativamente e darei invece un significato positivo perché questi colleghi hanno comunque voluto partecipare e dare un loro giudizio sull'Associazione. Quindi complessivamente ritengo che sia positivo l'esito. L'Associazione si trova a operare in un momento di rinnovamento della Banca Popolare di Milano con un nuovo sistema di governance. Come affrontate questa nuova fase? Noi intendiamo proseguire sul percorso di rinnovamento, già iniziato un anno fa dall'Associazione e chiaramente in coerenza con il programma sottoscritto dall'Associazione uscente, quindi quello di rinnovamento, crescita e sviluppo. È chiaro che per far questo è necessaria la collaborazione di tutti i protagonisti della cooperativa e altrettanto necessario è il rispetto dei ruoli di ciascuno di essi. Nel gruppo Intesa San Paolo l'azienda ha aperto la procedura di licenziamenti collettivi prevista dalla legge 223 per i lavoratori di Banca Monte Parma. L'iniziativa è giunta dopo la chiusura senza accordo della procedura avviata dall'azienda per governare ricadute relative al processo di ristrutturazione della banca, con cui il gruppo Intesa San Paolo chiede della riduzione di personale di almeno 100 lavoratori e pesanti tagli al costo del lavoro. Proposte respinte con forza dalle organizzazioni sindacali che si oppongono a una logica di penalizzazione dei lavoratori di Banca Monte Parma e al tentativo di far ricadere su di loro il peso della ristrutturazione. Nei prossimi giorni verrà definito il percorso per l'avvio del confronto nell'ambito della legge 223. Era questa l'ultima notizia, noi come sempre vi ringraziamo e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con un Bortigi della Wilka Nazionale. Arrivederci!